di vincere la lotteria con un biglietto trovato per strada e di continuare a trovare il biglietto fortunato ogni settimana per mille anni. Il teorico dell'informazione, lo scienziato Hubert Jockey, ha calcolato con la conferma del biologo Robert Sauer che la probabilità che una proteina contenente 100 aminoacidi possa formarsi spontaneamente è inferiore ad una probabilità su 10 elevato alla 65esima potenza. Un evento così è talmente improbabile che potrebbe essere paragonato alla probabilità di vincere la lotteria con un biglietto trovato per strada e di continuare a trovare il biglietto fortunato ogni settimana per mille anni.